Nella terza giornata del campionato Under 17 Elite, il città di Ciampino espugna via della Pisana con il punteggio di 3 a 1. La vittoria, giunta nel finale di gara grazie a Spina e Barbarossa, consente agli ospiti di salire a 6 punti in classifica, a 3 lunghezze da vigore e giardinetti. Sconfitta Mare invece per l'Urbe Tevere, che si mangia le mani per le tante occasioni sprecate. La prima chance è per i padroni di casa. Broso da sinistra serve in area Jacoponi, che gira di testa trovando l'ottima risposta di Maddalena. I padroni di casa sembrano gestire le operazioni, ma alla prima sortita offensiva gli ospiti trovano il vantaggio. La punizione di Di Pillo, dal lato sinistro dell'area, si insacca sotto l'incrocio con Ugolini a guardare. I giallobullo non si scompongono e al sedicesimo pareggiano i conti. Cuomo peschina era Jacoponi, che difende palla da maestro e calcia verso la porta. La sfera bacia la traversa e si insacca alle spalle di Maddalena. Il città di Ciampino regisce al 31esimo. Di Pillo serve in verticale Scarsella, che defilato sulla destra calcia sul piede di Ugolini. Dall'altro lato, nel finale di tempo, è Casavecchio il più pericoloso. Al 34esimo raccoglie palla in seguito ad una mischia e di destro pizzica la traversa. Al 38esimo è invece il suo compagno Jacoponi a frapporsi sul suo tiro indirizzato all'angolino. Nel secondo tempo il primo squilo lo suona Arcella, che dai 20 metri spedisce alto non di molto. Al 13esimo risponde Scarsella, che recupera palla sulla tre quarti, punta l'area di rigore e calcia dal limite, presa facile per Ugolini. Al 17esimo arriva la migliore occasione per i padroni di casa. Arcella in buca in profondità per Minotti, il numero 2 apparecchia in aria per Jacoponi, che sottoporta calcia clamorosamente alto. L'errore pesa, perché se al 22esimo spina in contropiede e spara sui guantoni di Ugolini, al 30esimo il numero 19 non perdona, freddando l'estremo difensore dopo essersi liberato in aria con una magia. Non basta perché al 36esimo arriva anche il Tris, Scarsella si scatena sulla destra e serve sul primo palo il movimento di Barbarossa, che anticipa tutti e mette dentro. È il gol del definitivo 3-1 che fa esplodere la panchina rosso-blu.